Nel pieno del Giubileo della Misericordia, Madre Teresa di Calcutta diventerà santa. La cerimonia di canonizzazione si terrà domenica 4 settembre. Papa Francesco ha infatti firmato durante il concistoro ordinario pubblico il decreto per la canonizzazione di cinque beati. Diventeranno santi anche Giuseppe Sanchez del Rio, martire a 14 anni in Messico nel 1929, il sacerdote polacco Stanislao di Gesù Maria, José Gabriel del Rosario Brocero, figura di sacerdote molto popolare in Argentina e a cui è profondamente devoto il pontefice, e la religiosa Maria Elisabetta Hasselblad, fondatrice delle Brigidine.